Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Provinciale si è discusso molto del settore edilizia scolastica e pubblica. Sono state approvate due variazioni al bilancio di previsione 2024-2026, soddisfatto il Vicepresidente della provincia Gianluca Alfonsi. Sul fronte dell'edilizia scolastica tanto avevamo già fatto in termini di sicurezza, abbiamo lavorato adesso sull'efficientamento energetico con gli infissi sia al Galilei, al Croce, al Serpieri e nell'arredo interno dei bagni. Stiamo per inaugurare l'Aula Magna, altro obiettivo storico del liceo Vitruvio Puglione. A breve ci sarà l'inaugurazione, un'opera che si attendeva da anni e quindi anche il liceo scientifico Vitruvio Puglione, che è un'eccellenza della nostra area, avrà questa ulteriore struttura che sarà a disposizione non solo della scuola ma della città di Avezzano e di tutta la Marsica per ospitare eventi culturali. E' una risposta importante, quella che stiamo dando in un momento di grande difficoltà. Non dimentichiamo che le province, a seguito dell'accelerata legge del Rio, sono state private di personale e soprattutto depotenziate in termini di finanziamenti e di funzioni, ma la provincia dell'Aquila, pervicacemente, da provincia montana a qual è, continua ad andare avanti, consapevole del proprio ruolo e consapevole del contributo che deve dare per la crescita dell'area interna. Grazie a tutti.